Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della Candy Craft, il mio mondo ufficiale! Mi raccomando, riempite questo video di mi piace già da adesso, perché io mi sto impegnando tantissimo a portare quanti più video della Candy Craft e della Mod Craft durante queste vacanze. Allora ragazzi, nello scorso episodio ci siamo lasciati che ho costruito la miniera. In realtà non ho proprio costruito la miniera, ho costruito l'entrata della miniera. Cosa volete voi, eh? Io non vi ho invitato... Mi ero dimenticato che un Creeper mi ha distrutto tutta quella zona là e la devo ricostruire adesso. Mi lasciate stare, eh? Non siamo amici, non voglio visitatori, non compro nulla, basta. No, 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 non ci penso proprio, il Creeper sta alla larga da me, sta alla larga, via! Ho detto via, ho detto via! Ok. Quindi dicevo ragazzi, nello scorso episodio abbiamo creato l'entrata della miniera, che è una cosa che avrei voluto sempre fare, però non so per quel motivo, non l'avevo mai fatta nel mio mondo. E adesso vi faccio vedere, ho migliorato un pochettino l'entrata e ho anche costruito l'interno, perché vi dicevo che volevo decorarlo tutto quanto per creare tante varie entrate in tante varie miniere. E quindi guardate che figata adesso la miniera, eh? Vi piace? Questo poi lo farò tutto quanto così, questo terreno qua. Non so come si chiama, si chiama brullo forse, terreno brullo? Boh, non lo so, comunque il terreno marroncino, anziché quello verde. Quindi facciamo tutto quanto così, bellissimo, bellissimo, mi piace veramente tanto. Ho anche decorato un pochettino l'esterno, come vi dicevo ho messo dei barili, ho messo un minecart con delle rotaie così un po' rotte, un po' di blocchi per terra, cioè giusto per dare quella, eh? O no? Adesso sembra proprio una vera e propria miniera. E qui vorrei riempirlo tutto quanto di rotaie per fare il meccanismo che va in giù e in su automaticamente con il minecart, perché non mi va di farmela sempre a piedi. In pratica con questa miniera riusciamo a scendere alla profondità di Y12, quindi adesso siamo a livello diamante e come vedete ho cercato un pochettino anche di fare le varie entrate, che saranno queste al momento, poi magari la possiamo anche allargare. Non lo so, dipende da quello che troviamo, ma secondo me queste sono delle entrate molto, molto fortunate e sono anche molto intelligenti, ragazzi, questo è il modo migliore per scavare, vi spiego perché. Perché in questo modo, allora ragazzi, se io scavo così riesco a vedere i blocchi che ci sono qua, i blocchi che ho davanti e i blocchi che ho a destra. Aspettate, ripiazziamo questo qua, ok. E non ha senso scavare un blocco anche qua perché i blocchi di destra li conosco già, quindi in questo modo scavando a sinistra trovo i blocchi di sinistra, i blocchi di destra e poi qua riesco a trovare gli altri blocchi di sinistra e gli altri di destra. Quindi è sempre meglio scavare in questo modo, quindi un tunnel, poi due blocchi di spazio, un altro tunnel, due blocchi di spazio, un altro tunnel. Spero di essermi spiegato, altrimenti sto facendo una figuraccia. Adesso cosa dobbiamo fare? Devo craftare ovviamente le rotaie. Io non so come funzionano, non ho letto ancora i vostri commenti perché l'episodio in cui ho costruito la miniera non è ancora uscito, uscirà domani. Per me, cioè per voi magari, per voi sicuramente già è uscito, però per me uscirà domani, quindi sto registrando questo video prima di caricare quell'altro e quindi non so ancora come si fanno le rotaie, però so che devo creare delle rotaie con l'energia e altre invece come queste normali, giusto? Quindi ho bisogno di rotaie di redstone, rotaie normali e torce di redstone, credo. Non lo so, oggi ci sarà sicuramente da ridere perché io non ho mai fatto questa cosa, non sono bravo con i meccanismi, non sono bravo con la redstone e sicuramente qualcuno di voi si metterà a ridere. Tra l'altro, se aspettassi un pochettino, probabilmente qualche mese, potrei utilizzare la redstone wireless, quindi lo skulk block. Però non fa nulla, noi intanto facciamolo con la redstone normale. C'è qualcuno, qualche intruso? No. Ok, molto bene. Quindi prendiamo redstone, presumo mi serva, oro, cioè ferro e oro, no? E basta, non credo mi serva dell'altro. Ah, forse anche della legna per fare le torce, ma vabbè, quello lo facciamo dopo. Allora, cerchiamo di capire cosa devo craftare e come devo craftarlo. Quindi, se io cerco re, non le posso neanche craftare? Ah, perché mi servono i bastoncini. Ah, non lo sapevo! Servono anche bastoncini e pressure plate, va bene, no problem. Noi viviamo in una foresta, pensate che i bastoncini siano un problema? Ma dai, facciamo così, quest'albero mi è sempre stato antipatico, tu ora non esisti più. Addio. Sì, io ho questi poteri, ragazzi, ho il potere di decidere quando un albero continuerà a vivere e quando no. Ripariamo questo, poverino, perché sennò si è fatto male, qualcuno l'ha tagliato per sbaglio. Devo anche riparare qua dentro, perché qua dentro un tempo c'era una farm, una farm infinita di pesca. E poi vabbè, le farm adesso non funzionano più e quindi è inutile. E la devo riparare perché il creeper è esploso. Comunque, ragazzi, onestamente la miniera mi piace tantissimo, sono molto orgoglioso, non pensavo che sarei riuscito a costruire una cosa così bella. Allora, adesso, 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 quindi dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare? Gli sticchetti, ci servono i bastoncini. Abbiamo i bastoncini, possiamo fare powered rail e rail normale. Poi per fare il detector e l'activator. Ah, quindi l'activator va messo all'inizio e alla fine, presumo. Il detector va messo ogni tot blocchi. E poi quelli powered vanno messi sempre, giusto? Quindi questo ci serve una pressure plate e questo invece ci serve una torcia di redstone. Va bene, allora l'activator lo riusciamo a fare, basta che facciamo un po' di torcia di redstone. Facciamo quindi activator, poi powered. Quanti ne possiamo fare? Beh, un bel po'. Un bel po'. Credo che questi già abbassino. Ma allora non mi servono a nulla questi normali. Cioè, vabbè, io li crafto comunque perché tanto non costano molto. Però se io ho tutte queste qua che sono più potenti, meglio così. No? Cioè, non lo so, ragazzi. Per me è un mistero la redstone. E sapete bene che io prima di fare questi video non mi informo proprio perché trovo molto più divertente, molto più soddisfacente imparare le cose da solo o se no leggendo i vostri commenti. Quindi, allora, cosa dobbiamo fare? Io direi di mettere l'activator qui. Poi magari sto facendo tutto sbagliato. Cioè, magari non si fa proprio così. Mettiamo la redstone, che tra l'altro c'era già, quindi non dovrei neanche mettere la torcia. Ma vabbè, non fa nulla. E dopodiché io direi... Ci provo, eh. Magari non è giusto. Anzi, probabilmente non è giusto. Ma io direi di fare così. Allora, visto che qua siamo in discesa, mettiamo anche un paio di questi. Ah, però aspetta, siamo in discesa ora. Poi saremo in salita. Quindi mi serviranno anche queste. E allora, queste qua mi sa che conviene metterle. Quelle normali. Cavolo, mannaggia. Aspetta. Allora, quelle normali io direi di metterle in pianura. Quindi quando il terreno è pianeggiante, mettiamo quelle normali. In salita e in discesa mettiamo le powered, ok? Quindi queste qua dovrebbero andare più che bene. Spero, non lo so ragazzi. Non ne ho idea. Spero di non star facendo una figuraccia. Sicuramente sto facendo una figuraccia. Che dico? Ok, così, così. Bene. E andiamo ancora giù. Ok, se non altro, buone notizie. Bastano. Sono abbastanza per farcela. Ma ci riusciranno a portare su? Ora mettiamo qua questo, che è l'activator. E dobbiamo mettere una torcia di redstone. Come faccio? Devo fare così per forza, no? Ok, sto piccone è troppo forte. Non è possibile che scavo un blocco e me ne distrugge tre. Facciamo così. Allora. Per adesso così ragazzi. Poi lo miglioro. Bene. Quindi è giusto? Cioè, va bene così? Non lo so. Aspetta, proviamo a mettere l'activator qua. E la torcia di redstone la mettiamo qua per adesso. E anche qua. No, non serve là. Ok, bene. Quindi questa è la nostra primissima rotaia nella Candy Craft. Io non ho mai fatto un sistema di rotaie da quando gioco a Minecraft. Quindi dal 2012 fino al 2020 non ho mai, e dico mai, utilizzato le rotaie. Sarà interessante vedere se funzioneranno. Ne dubito. Secondo me ho sbagliato qualcosa. Devo mettere comunque delle torce di redstone praticamente ovunque. Perché se non gli dai il segnale col cavolo che ti spingono, che l'energia arriva alle rotaie e ti spinge il minecart. Allora, creiamo un altro minecart. Perfetto. E lo piazziamo qua. Che sta succedendo? Perché? Ehi. Ehi. È impazzito. È impazzito. Perché è impazzito? A noi non importa il perché si è impazzito. L'importante è che funziona. Non mi vado a schiantare, vero? Oh. Ma non mi fa entrare, perché? Oh. Ok. Bene. Ora sta andando. Dai. Dai. Sei in discesa. Non devi avere difficoltà in discesa. Ah, ma certo che hai difficoltà. Perché non gli ho messo ancora le torce di redstone. È come se queste qua lo rallentassero. Allora, sta fermo qua. Fermo. Non ti muovere. No, 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 no. Dove vai? Ok. Cerchiamo di mettere le torce di redstone un po' ovunque. Funziona? Cioè, si stanno attivando? Non ho idea. Forse più giù? Forse qua. Ah, ok. Devo metterla proprio nel blocco esatto. Quindi togliamo questo. Mettiamo questo. Poi togliamo questo. E mettiamone un'altra qua. Nabbo prova a giocare con la redstone per la prima volta. Va bene. Così. Poi così. Bene. Non devo metterne troppe sicuramente. Cioè, basta metterne uno ogni tanto, no? Ci vado piano piano col piccone, però ho paura di rompere mezza caverna. È troppo potente questo piccone. Ok, così. Ehm, adesso. Vai. Adesso. No, adesso vai. Oh, aspetta, 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 aspetta. Oh, che cavolo. Ma dai. Ma no. Allora, qualcosa mi dice che questi activator non vanno bene. Io provo con le powerhead normali. Senza utilizzare l'activator. Però, cavolo. Cioè, se funziona così, sono proprio arrabbiato. Scusa. Eh no, eh. Dai, andiamo. Torna qua. Allora, sto activator lo togliamo. Perché secondo me non funziona a nulla. Secondo me non serve a nulla. Ok, mettiamo il minecart. 3, 2, 1. Via. Wow. Ok, stiamo andando alla velocità della luce. Dai, 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 dai. Adesso c'è ancora tanta energia. E... Puff. Eccoci arrivati alla caverna. Adesso vediamo se funziona anche in salita. Andiamo. Sta andando? No, non ci credo, ragazzi. Wow, wow, wow. Sta andando. Sta funzionando. Ce l'ho fatta. Sono riuscito a creare qualcosa con la redstone e non è un totale fallimento. Non sono mai stato così tanto orgoglioso di me stesso. Questo è il più bel giorno della mia vita. Cioè, poi, non so, magari ho sbagliato tutto. Magari non si fa così. Però io ce l'ho fatta. E sono contento di questo, ragazzi. Sono molto contento. Anche voi dovreste essere contenti di me e dei miei risultati. Finalmente, dopo... Dopo otto anni, ho imparato a utilizzare qualcosina con la redstone. Devo soltanto adesso mettere tanti minecart in una cesta. Quindi, facciamo così. Ne craftiamo tanti. Giusto per essere sicuri di non perderli. E ne mettiamo un pochettino qua. Ok. E adesso andiamo. Andiamo. Ma, però... Vedi, non mi piace il fatto che si blocchi. Non dovrebbe bloccarsi. Dovrebbe restare nella rotaia. Ah, forse gli dovrei mettere un cancelletto. Se forse gli mettessi un cancelletto a inizio e fine percorso, lui poi non esce fuori dalle rotaie. Sì, dovrei farlo. Dovrei sicuramente farlo. Comunque, qua nel frattempo mettiamo un altro po' di minecart, perché ci potrebbero servire. Così li possiamo utilizzare per ritornare su. E perfetto, ragazzi. La nostra miniera è completata. Cioè, più o meno. Non è proprio completata. Però adesso non ci resterà altro che scavare, scavare, scavare... Uh! Ma pensa te. Bene. Ottimo. Smeraldi. Diciamo, non ci resta altro che scavare, scavare, scavare per centinaia di migliaia di blocchi e testare se effettivamente questa miniera è fortunata e se funziona. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Dal vostro Kendall è tutto. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!